I finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un presunto sodalizio criminale composto da imprenditori e pubblici dipendenti con base a Palermo ed operante anche in Sardegna. In dettaglio sono state sottoposte a sequestro preventivo tre aziende di recupero crediti con sede in Palermo, Messina e Riccione nonché disponibilità finanziaria per un valore di oltre 77.000 euro pari al profitto delle ipotizzate condotte corruttive. Gli indagati, in totale 16 tra persone fisiche e giuridiche sulla base degli elementi probatori allo Stato raccolti, sono indiziati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche d'atti, rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio nonché responsabilità amministrativa degli enti dipendenti dagli anzidetti reati. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, gruppo tutela spesa pubblica, sono state originate da una segnalazione della funzione ispettiva della direzione centrale risorse umane dell'Inps e si sono sviluppate attraverso due distinti filoni investigativi. Il primo ha permesso di ipotizzare l'esistenza di un'associazione criminale composta da un dipendente dell'Inps di Palermo e tre imprenditori operanti nel settore del recupero crediti attraverso due società, una con sede a Palermo e l'altra con sede a Riccione. In particolare i titolari delle due società avrebbero corrotto il dipendente dell'Inps in servizio nel capologo siciliano al fine di reperire informazioni riservate in merito alla posizione lavorativa e contributiva di ignari utenti dell'ente previdenziale nei cui confronti avevano ricevuto da terzi l'incarico di recuperare dei crediti. Grazie anche alle segnalazioni effettuate dalla struttura di auditi dell'Inps sono stati ricostruiti circa 6.000 possibili accessi abusivi effettuati dal funzionario coinvolto nei confronti di oltre 800 nominativi. Per l'attività illecita verosimilmente prestata, il pubblico funzionario avrebbe ricevuto a titolo di remunerazione, in dunque quale prezzo della corruzione, la somma di circa 17.000 euro. Il secondo filone investigativo ha riguardato invece le condotte illecite che i suddetti imprenditori avrebbero posto in essere una volta avvenuta meno la figura del funzionario Inps, nel frattempo sospeso dal lente previdenziale. In tale contesto è emersa la figura di un dipendente del comune di Quartus Sant'Elena che risulterebbe avere ugualmente compiuto numerosi accessi abusivi alle banche dati. A lui in uso, in ragione del suo lavoro per fornire informazioni riservate afferenti a soggetti debitori, ottenendo in cambio somme di denaro per un ammontare pari a 8.000 euro. Potenzialmente è emerso che, per le medesime finalità, il titolare della società romagnola avrebbe avviato ulteriori contatti con una ditta di disbrigopratiche di Messina e con un'altra ditta a investigazioni private di Salerno. In ragione del fatto che il GIP, pur riconoscendo integralmente le prospettazioni accusatorie, non ha ritenuto di disporre misure cautelari personali nei confronti dei responsabili, la Procura della Repubblica ha inteso impugnare l'ordinanza innanzi al Tribunale del Riesame che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell'imprenditore di Riccione e l'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale per sei mesi dall'amministratore di fatto della società palermitana.